Dobbiamo anche guardare al mondo esterno per la crescita ed è per questo che oggi c'è stata una discussione importante sulle relazioni strategiche con la Cina. Una relazione reciprocamente vantaggiosa, essenziale per la prosperità della Cina, dell'Unione Europea e del resto del mondo. L'Unione Europea è già il più grande partner commerciale della Cina e la Cina è per noi il secondo partner commerciale, ma è in rapida crescita. Si può fare molto di più per i servizi e per gli investimenti. Il nostro commercio sui servizi è 10 volte inferiore a quello sui beni. È importante quindi lavorare ad un accordo per gli investimenti con la Cina. Continueremo i nostri lavori approfonditi per migliorare le relazioni con la Cina in diversi settori molto importanti in questa fase di cambiamento di leadership in quel paese.